Lo scorso fine settimana agli eventi di promozione dei prodotti e del territorio organizzati insieme alla Camera di Commercio di Trento, ora la firma di un protocollo d'intesa con un'altra istituzione. Giornate di grande fermento per la Camera di Commercio di Cosenza che ha siglato un accordo con l'Inps per stabilire un rapporto di reciproca collaborazione volto a condividere tutti i dati e le informazioni riguardanti le imprese, tratte sia dalla Banca Dati del Registro Imprese che dalla Banca Dati detenuta all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, anche a fini statistici. Con la firma del protocollo d'intesa con l'Inps, ha detto il Presidente dell'Ente Camera di Bruzio, Klaus Algeri, si aggiunge un altro tassello nel mosaico di Open Camera Cosenza. Crediamo nella forza della cooperazione e dell'ascolto, la Camera procede nella sottoscrizione di accordi e convenzioni che contribuiranno alla formazione di una visione molto ampia di tutta l'attività della pubblica amministrazione, al servizio delle imprese e dell'economia. Il miglior modo per difendere la legalità, conclude Algeri, è praticare la trasparenza.